Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPB per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restreggimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. A Firenze nuova viabilità interna all'ospedale Palagi. Iniziata la prima fase dei lavori, chi interesserà le zone intorno a Villa Margherita e al padiglione Giovannozzi. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!